Ben ritrovati amici del centro meteo italiano. Weekend all'insegna di freddo e neve sulla nostra penisola ed in particolare sulle regioni centro-meridionali. Già sabato 28 dicembre infatti l'anticiclone posizionerà i suoi massimi sull'Europa centrale con aria di origine artica che scorrerà sul suo bordo orientale fino a raggiungere anche l'Italia. Al centro-sud le temperature crolleranno assestandosi su valori generalmente 5-6 gradi sotto le medie del periodo a fronte di termiche in quota che scenderanno fino a meno 6-7 gradi. Questo freddo unito al maltempo che interesserà soprattutto il versante adriatico e le regioni meridionali porterà con sé anche la neve la quale si spingerà man mano a quote sempre più basse. Non si esclude che nel weekend i fiocchi possano scendere fin verso i 300-400 metri soprattutto tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Gli effetti di questa irruzione di aria fredda da est si esauriranno già all'inizio della prossima settimana con un finale di dicembre che si preannuncia nuovamente anticiclonico almeno per ora. Seguite quindi tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.